45 ribelli del PKK uccisi. È il bilancio che fa Ancara dei raid compiuti ieri dall'aviazione turca all'indomani dell'autobomba. I jet hanno colpito obiettivi kurdi nelle montagne del nord dell'Iraq, ma anche nel sud-est turco, in città come Diyarbakir, dove negli scontri sono morte quattro persone, un poliziotto e tre militanti. Nelle operazioni militari turche, nelle città kurde, ci sono anche diverse vittime civili. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha condannato duramente i terroristi, e non solo. Non c'è differenza tra un terrorista che ha una pistola in mano e coloro che sfruttano il loro ruolo e la loro posizione per mettere a disposizione dei terroristi in modo che possano raggiungere i loro obiettivi. Possono essere accademici, avvocati, giornalisti, dirigenti di organizzazioni non governative. Questo non cambia il fatto che anche queste persone sono terroristi. Dal PKK non è giunta alcuna rivendicazione dell'autobomba di domenica, l'ultimo di quattro attentati che in cinque mesi hanno colpito la Turchia. La gente teme che ce ne possano essere altri. Onestamente non ho molte speranze, sono pessimista, credo che possa accadere ancora. Stanno cercando di imporre un disegno nuovo attraverso il terrorismo. Spero che non ci riescano, dice un abitante di Ankara. La tensione è alta. L'attaccante tedesco del Galatasaray, Lukasz Podolski, passato quest'anno al club di Istanbul è sotto shock e starebbe pensando di andarsene. L'attaccante tedesco del Galatasaray.